Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Premetto subito che sentite un rumorino di sottofondo è perché c'è sempre l'Anycubic Photon, la stampante 3D che praticamente sta a stampare giorno e notte, ed abbiamo paura di vedere quando arriverà la bolletta. Oggi vi presento Mice & Mystics, se non erro, nuova edizione, gioco della Play That Games, e portato in Italia da Asmod Italia, che ancora una volta ringrazio di cuore per averci offerto una copia per la recensione, e ragazzi è sempre un piacere e un onore poter collaborare con voi dopo due anni. Grazie di cuore. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Mice & Mystics è un gioco cooperativo in cui vestirete un dungeon crawler ovviamente, in cui vestirete i panni di un gruppo di topolini che saranno all'interno di un castello e dovranno risolvere svariate missioni, missioni che potete giocare o singolarmente, perché c'è un libro dell'avventura che è alla fine del mondo, giocate singolarmente o tutte quante collegate a livello di filone di campagna, perché il gioco, questa modalità qui, a parte la modalità campagna, ha proprio un filone narrativo. Ed è la cosa più bellina perché qui vi consiglio, cosa che io non potrei fare mai, soprattutto se lo giocate con dei bambini, perché è un gioco che va bene anche per il vostro figlio, magari il nipotino, 10, 11 anni, 12, ci vuole uno che legga bene, che abbia un bel tono, una bella dizione, e soprattutto perché è un gioco molto narrativo che sappia narrare bene questa specie di favola. Muoveremo i nostri topini all'interno di questo dungeon, di questo castello, e dovremo risolvere diverse battaglie, diversi casi, anche diversi misteri, ed è un gioco molto veloce e interessante, e ve l'ho detto come genere principale, è un dungeon crawler classico, muove il tuo topolino, tutto quanto, come vi ho detto, cooperativo, non c'è nessun tipo di PvP, puoi andare a ricercare, trovare equipaggiamento migliore, schivare trappole, sabotare trappole, ovviamente anche qui ci sono le classi, i guerriero, arciere, cose del genere, e poi è bellino perché si sviluppa su due tipi di tile, perché i tile, come vi farò vedere a breve, sono double fast, quindi alla fin fine da una parte siete a un livello del dungeon, e dall'altra parte invece quando andate verso le catacombe, o comunque cose sicuramente, piani più bassi. Gioco dagli otto anni in su, questo veramente ci potete far giocare anche bambini, anzi, secondo me li farete rivettire da morire, da 1 a 4 giocatori, e della durata media di 60-90 minuti, sì, secondo me più 60 che 90, comunque vabbè, perché proprio le regole sono veloci. Vi faccio vedere un po' come funziona, ma prima di tutto, unboxing, la confezione del gioco, che è abbastanza grande, non molto spessa, comunque il contenuto che c'è dentro è sicuramente molto interessante, e vedete i topolini che vanno in missione, ed è bellino perché anche i topolini si dividono un po' nel classico fantasy, il guerriero, oppure c'è magari l'arciere che tira a distanza, e cose del genere, e uno dei boss finali, a parte il capo delle guardie, è Brody, il gatto gigante, guardate bellissimo, con uno sfregio, una cicatrice sull'occhio, veramente, veramente molto bellino, colorato molto bene, gioco della Play That Games, e vi ricordo, edizione italiana a cura di Asmo d'Italia. Apriamo. Regolamento di gioco, che, boh, non vi sto nemmeno a dire facile, perché è la parola precedente, il termine precedente, veramente una bischerata, e basta leggerlo veramente una volta per averlo capito, l'unica cosa, forse fate leggermente più attenzione, alla plancia della fiaba, questa qua giù, perché comunque dovete tenere conto della ruota del formaggio, e di quando entreranno in campo i mostri, e soprattutto dell'ordine d'iniziativa. Questa è l'unica cosa da tenere un pochino più sotto controllo, ma il regolamento è veramente una cavolata. Il libro delle fiabe, dell'avventura della campagna della scatola base, il dolore e il ricordo, che tra l'altro, guardate, bello anche, grande da leggere, e come vedete, all'interno c'ha i setup di tutte quante le missioni, regole speciali, perché ogni missione c'ha le sue regole speciali che dovete andare a leggere, il setup iniziale, e poi tutta quanta la parte narrativa, che è veramente importante, e questo vi ho detto, trovatevi magari un bravo lettore, il migliore fret di voi per farglielo leggere. Tutti quanti i token, che in un prossimo video, tutti questi token che vedete qui, ve li faremo vedere direttamente in 3D. Ragazzi, se sentite un po' di vento, scusate, ma veramente siamo a giugno a registrare questi video e non ci si sta più su, veramente faranno già 35 gradi. Comunque, i tile di gioco, che sono molto bellini e anche resistenti, poi disegnati da paure, e vedete tutti i tile hanno sempre una parte per un colore. E poi ogni tile qua su in cima ha una freccia, che vi fa vedere come indirizzarlo quando lo dovete posizionare. La plancia dell'iniziativa, vedete qua giù, questa qui è la plancia dell'iniziativa, e dei token formaggio per le ondate di mostri che dovete mettere qua giù, mazzi degli equipaggiamenti, mazzi delle carte incontro, per vedere le ondate di mostri che vi arriveranno contro, le carte ovviamente dei mostri, quindi tutti quanti gli incontri che trovate sono qua, e il primo è Brody, il gatto assassino, bellissimo, lo voglio veramente in 3D. Poi ci sono tutte quante le abilità dei topini, e poi qua giù, le schede, che ora tanto poi vi faccio vedere da vicino nel dettaglio. Bustina, per conservare tutti i token, dadi da gioco, che sono pochi, bellini, e molto facili tra l'altro da utilizzare, e poi qua giù dentro c'è una marea di topolini, scolopendre, che sono mostri particolari, voi mi fanno anche schifo, che troverete nel dungeon, ratti, nemici, ragni, e quant'altro. Questa qui che vedete, è la plancia dell'avventura, come vi dicevo all'inizio, dove nel setup, ora non ve lo sto a far vedere, ogni avventura cambia, comunque dovete mettere la clessidea, di solito su pagina 1 dell'avventura, qua giù in fondo, e il fine ve lo dice il setup stesso, potrebbe essere sul 9, sul 6, sul 5, noi mettiamo caso, che abbiamo scelto un'avventura dove sul 6, quindi un punto di partenza, un punto di arrivo, ovviamente se la clessidea dovesse arrivare fino in fondo, la partita sarà persa, poi dovete mescolare il mazzo delle ricerche, e lo mettete qua giù sull'R, e qua giù in cima invece, ovviamente l'abbiamo mescolato appena così alla cavola, per farvi vedere, il mazzo degli incontri, che andrete a mettere qua su, qui c'è la ruota del formaggio, dove ci dovrete mettere i token del formaggio, che in un prossimo video vi faremo vedere in 3D, e quando questa ruota qui sarà piena, dovrete andare a pescare una carta incontro, girarla, e a seconda della pagina dove siete, vedete, in una partita standard, si può arrivare fino a pagina 6, in una partita più difficile, potete arrivare fino a 9, comunque mettiamo caso, che la clessidra sia sull'incontro a pagina 2, pagina 2, incontro, dovete andare a fare questa cosa qui che c'è scritto, che nel caso nostro è una blatte, sono 5 blatte ingorde. Dalla parte di qua, invece, l'iniziativa, e sull'iniziativa ci dovete andare a mettere, i nostri personaggi, e i mostri che sono entrati in gioco, quindi i mostri che sono entrati con una carta incontro, scheda dei personaggi che vedete di qua, vi si fanno vedere un pochino, abbastanza classici per diversificarli, comunque il capitano, che è un guerriero, quindi capitano e guerriero sono le due classi scritte qua giù da questa parte, un arciere e un fabbro guerriero. Accanto qui vedete i punti ferita che hanno, quindi quando subiscono dei punti ferita, ci andate a mettere questo segnalino, sopra A, qui c'è scritta anche l'abilità speciale della classe, se invece è un punto ferita da veleno, lo girate da quest'altra parte. Qua giù c'è segnato il valore di attacco, ovvero i dadi che tira in attacco, il valore di difesa, ovvero il dado che tira in difesa, quindi ne tira soltanto uno, il valore di capienza e il valore di movimento. Poi per il resto, come vedete, sono scritte le abilità e tutto quanto, quindi avete tutti quanti i valori che sono pochissimi scritti nella scheda del personaggio, più ovviamente le miniature. Da quest'altra parte di qua, come vi dicevo, ci dovete mettere l'iniziativa, quindi quando inizierà uno scontro e soprattutto inizierà un incontro nuovo che dovrete girare una carta perché le carte si girano quando o la ruota del formaggio qua su in cima è completamente piena, che ora tanto vi faccio vedere quando è che si riempie, quindi in questo caso è piena, con sei pezzi si gira una carta incontro o se no quando si va a esplorare una nuova zona. Comunque mettiamo caso che dalle nostre carte incontro siano usciti dei ratti e dei ragni e qui abbiamo le carte dei nostri personaggi. Praticamente quando esce un incontro, ve l'ho detto che esploriate o che il coso del formaggio sia pieno, voi semplicemente andate a mescolarle tutte quante e poi le andate a disporre qui dall'alto verso il basso. Quindi nel numero 1 c'è Nez, nel numero 2 c'è Colin, nel numero 3 c'è il ragno che una sola carta rappresenta più ragni a meno che non troviate dei boss, ci sono certi boss tipo il gatto che hanno due carte iniziativa perché agiranno due volte quindi in quel caso le dovete mettere tutte e due. Poi i ratti e alla piccola Lily, l'arcera, gli è andata male perché si muoverà per ultima. Quindi nel turno di combattimento si muoverà prima Nez, poi si muoverà Colin, poi si muoverà il ragno, poi si muoverà il ratto e poi si muoverà o il ratto, i ratti e Lily in fondo. Quindi ricordatevi che questa qui è la plancia principale dove dovete sempre tenere conto degli incontri e a seconda di quando passerete da una pagina all'altra cambierà anche il tipo di incontro, le carte ricerca che vi faccio vedere quando le andate a pescare, praticamente quando vi verrà chiesto con un tiro di dado di prendere una carta ricerca le andate a pescare e questo qui è l'equipaggiamento che potete tenere. Ne possono portare fino a un certo po', quindi comunque vedete nel manuale perché non hanno un inventario infinito. Ultime, ma non meno importanti, queste qui con la C dietro, le carte capacità. Vedete c'è scritto un requisito perché classe, questa ad esempio è per qualsiasi personaggio, queste le potete prendere quando passate di livello e ciascun personaggio, ciascun topino all'inizio della partita ne ha una. Quindi quando prendete queste carte per utilizzarle dovete spendere questi punti formaggio che ci sono qua. Quindi per usare questa abilità che è un'azione gratuita dovete andare a spendere due formaggi. Se non ce l'avete non la potete usare. Mettiamo caso che questa fosse una zona di partenza, dell'inizio della nostra missione. Ovviamente non ve li sto a far vedere ma ci sono anche token per le missioni. Ad esempio ci sono token trappola che potete trovare nel dungeon che quando ci passate sopra la trappola dovete fare un tiro di dado per vedere se la trappola scatta oppure no. Poi ci sono degli status tipo invischiato e ammaliato che quelli li mettete sulla scheda del personaggio nel caso vi capitino. Ciascun personaggio all'inizio può fare un movimento e un'azione. L'azione può essere anche una carica quindi il doppio del movimento ma di solito tutti i personaggi hanno come appunto su HeroQuest gioco tra l'altro ci si ispira veramente tanto un movimento e un'azione. Quindi nel caso di un movimento prendendo la scheda di Lily vedete che Lily ha un valore di movimento di 2 quindi dovete semplicemente tirare un dado e sommarci il suo valore di movimento. Lily è questa qui con l'arco e poi vi muovete sulle caselle vedete le caselle sono disegnate dai sassi che ci sono sopra. Quindi magari tirando questo dado vedete che i dadi hanno sempre dei valori hanno sempre un puntino che di solito serve quel punto lì per disattivare trappole o fare prove particolari una spada che è un simbolo di colpito uno scudo che è un simbolo di parato più un numerino in alto. Questo numerino va a rappresentare le caselle di cui ci sposteremo quindi 3 sul dado più 2 che è il valore di Lily lei si muove di 5 potrebbe fare 1, 2, 3, 4, 5 e andare avanti per esplorare la zona successiva esplorare una zona è sempre un'azione oppure potrebbe esplorare la stanza per esplorare una stanza si ritira il dado un'altra volta si guarda il numero di puntini che escono in questo caso non è uscito niente l'esplorazione l'ha fallita ma se le fosse uscito un puntino così ora tra l'altro vi spreca anche l'arco se le fosse uscito un puntino così lei andava a prendere dal mazzo di ricerca che vi ho fatto vedere all'inizio e andava a pescare una carta ed è quello che trovava dentro la stanza sempre sullo stesso dado sia per i personaggi che per i mostri c'è l'arco quindi l'arco ovviamente sono i colpi mandate a segno dall'arciere la spada sono i colpi mandate a segno in corpo a corpo quindi se l'arciere fa una spada non ha colpito se l'arciere fa un arco vuol dire che invece ha mandato un colpo a segno in più il formaggio il formaggio che esca in attacco o in difesa sia per gli eroi che per i mostri voi dalla ruota del formaggio dovete andare a prendere un token formaggio per darlo al vostro personaggio o nel caso se esce al vostro personaggio dovete darlo metterglielo sulla scheda per usare l'abilità come vi ho fatto vedere prima le abilità richiedono punti formaggio se invece esce o nell'attacco o nella difesa di un mostro dovete prendere dalla riserva comune un token formaggio e metterla sulla ruota del formaggio che così come vi ho detto prima quando arriva a 6 dovete fare un altro incontro stessa cosa allora andranno a muovere tutto quanto ci sono caselle come questa qui rosse vedete contornate di rosse come il camino dove non ci si può spostare quando c'è una riga rossa non ci si può spostare quindi il topo da qui a qui non ci può andare però potrebbe andare da qui salire qui e andare qua perché vedete quando c'è una riga gialla vuol dire che voi per spostarvi dove la freccia della riga gialla la punta fate il vostro movimento normale se lui da qui volesse montare qua giù in cima dovrebbe sprecare tutto il suo movimento stessa cosa qui ad esempio per montare sul letto e sullo scrigno se si muove da qui a qui finisce il movimento se invece si muove da qua sopra per scendere può continuare a fare tutto quanto il suo movimento quando vedete dei piedini i piedini che ci sono laggiù in fondo sono la zona dove vanno a sponare i mostri quindi nel caso di mostri tipo il ragno che abbiamo detto che c'era nel nostro incontro o il ratto sponeranno sempre sui piedi o ovviamente nelle caselle adiacenti nelle vicinanze quindi nel caso dello spawn dei mostri dell'incontro è così poi quando si va sempre in ordine di iniziativa vi ricordate che il nostro ordine di iniziativa erano Nets poi Colin Ragni o Ragno Ratto o Ratti e poi infine Lily quindi quando inizierà il turno e ci saranno mostri in campo perché finché non ci sono mostri in campo vi potete muovere liberamente ma commentano dei mostri vedete che anche qui sul letto ci sono dei piedi quindi nel caso questo potrebbe spawnare qui e questo potrebbe spawnare qui comunque quando si va in ordine di iniziativa e ci sono dei mostri presenti a quel punto lì bisogna muoversi prima Nets e Nets è il nostro fabbro questo qui col martello a due mani il guerriero quello bello potente quindi prima si muoverà lui e farà le sue azioni poi si muoverà Colin che è il nostro guerriero e poi si muoveranno il ragno le regole sono come Zombicide i mostri si muovono sempre a patto che ovviamente non ci abbiano delle regole speciali andate a leggere tirando un dado e il valore che esce sul dado sono le caselle di cui si sposta il mostro il mostro va sempre verso gli avventurieri più vicini se ce ne sono due alla stessa portata magari va verso quello con meno punti ferita o se no se tutto quanto alla pari scegliete voi comunque facciamo conto che va verso di lui e quando gli arriva in corpo a corpo ovviamente ci sarà subito l'attacco perché anche i mostri fanno un movimento e un attacco uguale ai personaggi poi dopo magari toccherà il ragno che tira il suo dado magari arriva fin qui facciamo conto che Lily è qua giù con l'arco per tirare a un mostro ci deve essere linea di visuale quindi se il mostro è qui dietro lo scrigno e Lily si trova qua giù non lo vede oppure qui non lo vede perché la visuale è bloccata non solo da loro ma anche da uno scrigno ma qui potrebbe tirare stessa cosa si va a tirare tanti dadi quanti sono scritti sulla caratteristica quindi Lily ha un valore di combattimento di 2 va a tirare due dadi e fa un arco quindi facendo il simbolo di un arco vuol dire che un colpo è andato a segno almeno che non abbia un arco incantato o altre cose che gli danno magari un più uno un più due cose del genere quindi avrebbe fatto una ferita al ragno che ora il ragno proverà a parare e un formaggio quindi prendete un formaggio dalla riserva e lo mettete sulla scheda di Lily ora il ragno si deve difendere il problema è che il ragno vedete qua giù ha una difesa pari a tre quindi tira ben tre dadi che non è per niente poco quindi il ragno tira tre dadi e è uscito uno scudo quindi l'unica ferita di Lily è stata parata il combattimento funziona così ragazzi sia dalla parte degli eroi che dalla parte dei mostri l'iniziativa rimane sempre questa sempre 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 questa fino a che tutta la stanza non è stata liberata dei mostri quando la stanza tutti i mostri sono stati uccisi automaticamente e l'ultimo eroi finisce il suo turno dovete mettere un altro token del formaggio direttamente sull'orologio del formaggio ci sono delle zone dove ad esempio servirà il rampino per scendere oggetti particolari di solito quando trovate un rampino ve lo costruite o lo trovate nell'equipaggiamento serve per magari montare da qui a qui andare direttamente passare su una zona gialla sprecando un solo movimento perché vedete fa tipo da ponte quindi magari da qui vi muovete direttamente qua giù quando si va a esplorare un'altra zona levate quando non ci sono più mostri levate tutte le carte iniziativa le dovete togliere tutte quante si va a esplorare una zona una zona nuova ovviamente si vanno a pescare casualmente e la zona che andiamo a connettere deve avere lo stesso simbolo che si vada a collegare dello stesso colore qui la porta e soprattutto la freccia deve essere indirizzata verso l'alto quindi questa è la zona che si può connettere se fosse stata la freccia da un'altra parte e la zona si connetteva così vedete che non poteva essere connessa ma comunque si va a esplorare una nuova stanza quando si esplora una nuova stanza si gira un'altra carta incontro e andiamo a vedere sempre a che pagina siamo dell'avventura e a seconda della pagina arriva un nuovo tipo di incontro e di mostri che esponeranno ancora una volta sempre sui piedini quindi dovete mettere mostri ognuno su un piede fino a che tutti non sono pieni e poi li dovete mettere nelle zone adiacenti sia chiaro si dà anche privilegio a boss e cose del genere che vengono posizionati prima nei punti più interessanti una volta esplorata una zona si entra all'interno della zona tutti gli altri anche se hanno finito il turno si spostano adiacenti alla nuova zona e poi si rimettono un'altra volta si ripescano le carte iniziativa un'altra volta e vanno rimesse in successione per come sarà l'iniziativa questa nuova volta le regole beh non male ragazzi sono tutte qua con la differenza vi faccio vedere l'ultima cosa questa casella qui vedete è grigia questo cosa vuol dire che per andare in una casella del genere per forza di cose deve essere connessa con un'altra casella grigia questo cosa vuol dire che se voi precedentemente avevate una casella del genere ora ve le metto storte ma è solo per darvi il senso così le potevate connettere ma se questa fosse stata girata da quest'altra parte non si potevano connettere perché vedete è un livello base e un sotterraneo quindi per andare in una zona del genere dovete scendere in altra maniera ad esempio quando andate a fare visto che è capitata questa zona qua ve lo faccio vedere bene quando andate a fare un'esplorazione e vedete che c'è questo simbolo qui con una freccia che dice capovolgere vuol dire che una volta che avete fatto l'esplorazione in questa stanza per spostarvi questa stanza qui verrà girata da quest'altro lato perché vedete praticamente siete scesi da questa scaletta per andare nei sotterranei ovviamente dove c'è la X ci dovete mettere le trappole comunque dovete andare nei sotterranei e a quel punto lì andando nel sotterraneo che questa sarebbe indirizzata così potete andarci a collegare le altre zone che troverete in questa zona qui che è una zona di corrente vedete bellino tipo siete finiti davanti a uno scarico dell'acqua una tubatura rotta qualcosa del genere dove c'è le frecce vuol dire che la corrente vi spingerà sempre da questa parte così e il vostro topo non si potrà muovere dalla parte opposta rispetto alla corrente ma potrà andare solo giù però potrebbe attaccarsi e uscire ovviamente su una zona asciutta per uscire da una zona asciutta dovete fare un test di movimento tirando il dado e se vi esce almeno un simbolino come questo qua giù vuol dire che avete superato la prova se non ce la fate il vostro topo verrà spinto all'ingiù nel caso non ci fossero state frecce di corrente per muovervi in acqua dovevate consumare tutto il vostro movimento quindi non state nemmeno a tirare il dado tanto farete uno uno e così via ragazzi bene o male le regole sono tutte qui ma è volutamente così il gioco perché è un gioco appunto veloce e alla portata di tutti facile da spiegare e ancora più veloce da giocare come avete visto è un gioco veloce è un gioco semplicissimo le regole sono praticamente poche di più ma forse c'è due regole in più di hero questo per il fatto dei livelli del dungeon e cose del genere ed è un gioco normale non puoi fare un gioco dagli otto anni in su pensato anche per un pubblico comunque abbastanza giovane e puoi mettere delle regole troppo difficili perché non ci deve volere un'ora e mezzo per spiegarlo un gioco e poi magari in 40 minuti fa una partita i giochi sono belli quando sono così e anche questa volta in questa nuova edizione hanno fatto un lavoro disumano è un dungeon crawler ve l'ho detto dovete fare missioni comunque se vi posso dare un consiglio prendetevi tutta la calma di questo mondo come se fosse un descent ad esempio e giocatelo veramente missione dopo l'altra in successione perché anche a livello narrativo è molto carino e mettete a leggere qualcuno che sa dare enfasi anche alla lettura alla narrazione come voto gli do un 9 su 10 e vi giuro non gli do 10 solo per il fatto che ovviamente scherzo sia chiaro perché si trovano anche a parte ma solo perché nella confezione principale non ci sono i ratti elite il comandante delle guardie dei ratti e non c'è il gatto non c'è il gatto brodi all'interno che nella versione normale del gioco è soltanto un token ma sono cavolate ovviamente si scherza quindi è un gioco che secondo me rasenta alla perfezione sono molto curioso di vedere e di testare anche le espansioni e vi ci porterò diversi gameplay perché è un giochino molto bellino e che tra l'altro mia moglie se lo vuole dipingere e tutto tra l'altro in un prossimo video vi faremo anche vedere un pimp my board game dedicato a mice and mystics con i token dei formaggi le trappole e tutto quanto fatte in 3d vi ricordo che se lo volete ordinare primo link in descrizione e in sovrimpensione da board game discount al miglior prezzo sul mercato e vi ricordo ragazzi non vi soffermate a vedere se il prodotto non è disponibile perché magari andate sul catalogo sul sito e non è disponibile mandategli una mail privata scrivete al supporto di board game discount essendo nostro partner e diteli guarda arrivo dal canale di cordan mice and mystics magari c'è magari non c'è comunque non l'ho trovato nella lista me lo puoi ordinare faranno il possibile per farvela avere al prezzo più basso in assoluto sul mercato quindi contattateli fatemi sapere cosa ne pensate io ringrazio ancora una volta Asmod Italia e il gioco ragazzi è una figata veramente è hero quest con i topolini è veramente bellissimo ciao ragazzi alla prossima